Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Incominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori, fino al 28 febbraio tra Aglio e Ronco e Milaccio in direzione nord. Per la mobilità rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e Ilbio con l'A1 verso Firenze. In Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandici, in carreggiata opposta a coda in uscita a Scandici. Relativamente al trasporto pubblico locale quest'oggi, per cause direttamente o indirettamente legate al Covid, mancheranno 402 conducenti sul territorio regionale. Sono previste riduzioni al servizio. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori e il via con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Senese e gli interventi sull'Astripo in Borgo Pinti e via di Camaldoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio.